E di due fabbricati, un autocarro e due discariche abusive della superficie complessiva di oltre 7.000 metri quadrati sequestrati, il bilancio di un'operazione in materia ambientale che, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, è stata condotta dai finanzieri del gruppo Lametino, in collaborazione con i militari della Guardia Costiera di Vibo Valencia Marina. Secondo quanto si è appreso nel corso di alcuni controlli effettuati con l'ausilio di personale tecnico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Calabria, in due aziende specializzate nel commercio e recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici operanti nell'Interland Lametino ed un'ufficina specializzata nella riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, sarebbero state accertate violazione in materia di tutela ambientale. Nello specifico sarebbero stati accertati gravi indizi di colpevolezza a carico degli amministratori delle società controllate per plurimi reati in materia ambientale, nonché per violazione alla normativa urbanistica in relazione a quella che gli inquirenti definiscono un'illecita gestione di rifiuti pericolosi, creata ad hoc per incrementare i profitti attraverso il fraudolento contenimento dei costi di smaltimento. In particolare sarebbero state realizzate delle vere e proprie discariche abusive a cielo aperto, dove venivano abbandonate enormi quantità di rifiuti speciali pericolosi, con l'inevitabile compromissione delle matrici ambientali, suolo ed acqua, e costituendo un potenziale pericolo per la salute pubblica.